Buongiorno a voi, buongiorno o buonasera a tutti quanti, amici, amiche, ascoltatori che seguono le attività dell'Accademia ACOS e in particolare in questo caso che seguono gli sviluppi del movimento culturale e spirituale del pionierismo magico che vede tra le sue avanguardie un'avanguardia dedicata alle medicine integrate e al benessere. In questo senso collaboriamo con diversi medici, scienziati, persone di grande competenza, di grande esperienza e oggi vi voglio presentare un carissimo amico, nonché compagno di viaggio nell'ambito dell'Accademia ACOS, l'amico Pierantonio Polloni. Ciao Antonio. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi per questa intervista, per questa chiacchierata con la quale introduciamo quello che è una tua ricerca, un tuo sviluppo, perché sappiamo che tu sei psicologo ad indirizzo corporeo e nell'ambito dei tuoi studi in quanto psicologo hai approfondito quegli aspetti della psicologia, psicologia del profondo, quegli aspetti della psiche che si innestano in quello che è l'esperienza esoterica. Poi di psicologia esoterica se ne parlava anche in ambito teosofico e post-teosofico con la Bailey che scrisse anche un libretto intitolato proprio Psicologia esoterica, però io credo che qui forse ampliamo decisamente il raggio d'azione e l'accezione del termine. E quindi, caro Pierantonio, a te la parola, raccontaci un po' della tua esperienza, come sei approdato a questa passione e a questa ricerca per la psicologia esoterica e ci dai qualche elemento che poi verrà sviluppato attraverso scritti, documenti, interviste, ulteriori video che naturalmente svilupperanno questo filone dell'avanguardia medicina e benessere del pionierismo magico. Prego. Certamente. Beh, ringrazio intanto per questa cooperazione e collaborazione stretta che andiamo a suggellare oggi, che ci fa portavoci di avanguardie. L'idea dell'avanguardia parte un po' nell'arte e secondo me è già un termine che innamora, riuscire ad andare al di là dell'onda, riuscire a traghettarci al di là del fiume, qualcosa che credo anela le anime di tutti. Perché alla fine in questa vita tutti quanti giriamo intorno ad un perno, che io riprendo sempre dalle parole del mio caro amico Dante Alighieri, che amo studiare, riprendere e raccontare in chiave psicologica, che dice ma tu stai vivendo all'altezza del tuo desiderio. Ed è stato proprio attraverso l'approfondimento con Dante che io ho incontrato un confine molto labile da quello che era la conoscenza codificata, accademica, di tutto l'ordine della psicologia, della psicodinamica, di tutte le scienze che sono decodificate in ambito medico per lo studio della mente, perché la scienza, la psicologia è categorizzata proprio come scienza. Anzi ci fu un grande dibattito a inizio novecento dove uno fra tutti si battè, e alla fine dell'ottocento, anzi tra l'ottocento e novecento si battè per dire noi siamo degli scienziati, no? E cominciò a fare gli esperimenti per dimostrare che era possibile studiare il cervello. Ma capirete che quando parliamo di psicologia parliamo di cuore, parliamo di emozioni, parliamo di sentimenti, parliamo di amore, parliamo di dolore, parliamo di bellezza. E tutte componenti che non hanno niente di lontano da ciò che è materiale. ma che però non possiamo, come dire, percepire, è come se noi volessimo toccarle ma non riuscissimo. Un po' come quando c'è un raggio di sole che filtra dalla finestra e noi scorgiamo tutti quei piccoli pelucchetti che ci passano attraverso che effettivamente sono invisibili, ma il raggio di luce ce li mostra proprio e ne è fitta l'atmosfera. Come direbbe il grande filosofo Merleau-Ponty, direbbe noi dobbiamo riuscire ad andare oltre l'invisibile per riuscire a trovare il visibile. E cito la filosofia perché è stato un po' il mio primo amore, come amo definirlo. Io mi laureai a Padova in filosofia in primis, poi feci per molti anni tutt'altro, continuando a studiare e a indagare l'animo umano dal punto di vista corporeo, per poi approdare la psicologia e scoprendomi che avevo bisogno di andare oltre. E così iniziò questo grande hitter con le difficoltà che potete immaginare già da adulto, lavorando magari con una famiglia, portare avanti altre due lauree. Comunque quando si ha un obiettivo grande si può sempre andare con il tempo e con la volontà e la determinazione incontro al proprio obiettivo, soprattutto se questo è mosso da amore. L'incontro tra psicologia e disuterismo... È bellissimo quello che hai detto, è già bellissimo quello che hai detto, soprattutto se è mosso da amore. E comunque complimenti per il tuo curriculum di studi, insomma, un grande impegno, una grande passione, un grande amore per tutto questo. Veramente è molto bello sentire usare queste parole. Ti ringrazio, guarda... Un po' più, scusami. No, ma ci mancherebbe, anzi. Io a volte mi commuovo anche, no? Perché è come se questa bellezza di sapore antico abbia davvero un potere catartico dentro di noi. Così come la parola, la parola ha una potenza incredibile. E la psicologia indaga proprio, secondo me, ma poi questo signore che ha scritto questo librone rosso qui alle mie spalle, poi ve lo avvicino, lo vedete, ce l'ha spiegato. Ed è stato un po', come dire, il ponte tra Occidente e Oriente, lui, all'inizio del Novecento. Perché ha preso Freud, hanno fatto un viaggio insieme in barca, in nave, anzi, sono traghettati verso New York per questo grande convegno della psicanalisi, e lì si ruppe la loro amicizia, un po' come se il gretto materialista di Freud non potesse accettare che c'era un mondo non dimostrabile e non appartenente solo all'Eros e al Thanatos, cioè a questa dimensione binomiale, doppia della realtà, no? Cioè il bene, il male, il chiaro e scuro. E Jung, invece, apriva una dimensione dove Freud ci sarebbe perso, avrebbe avuto un senso di vacuum infinito, no? Ed ecco allora che noi, vedendo questo, non possiamo non dire ma la psicologia è esoterica o esoterica? E qui andiamo a fare un po' l'anamnesi del termine semplice, no? Perché esoterico, eso è ciò che è chiaro ed evidente, esoterico, scusa, è nascosto, voglio dire, l'esoterico è ciò che invece è manifesto, no? È fenomenologico. Ma la psicologia tratta l'individuo umano, corporeo, per cui ciò che noi vediamo, i suoi comportamenti, ma cosa muove il mio comportamento? Qual è la leva di una dimensione emotiva, emozionale, o traumatica, o di dolore che mi spinge in avanti o mi fa scappare all'indietro? Ed ecco qui che secondo me si crea proprio il ponte. Noi siamo abituati a definirci in un modo molto stretto, un po' come siamo abituati a definire il tempo, ieri e domani e oggi, quando invece l'esoterismo stesso e le correnti che arrivano, Carlo ce lo insegna, è un momentum continuo, un eterno presente, che ha solo dimensioni personali nel suo essere considerato prima e dopo. La psicologia esoterica, io credo, l'ho cercata perché pensavo che la psicologia non potesse non esserlo. Per cui sono andato a studiare, a fare una ricerca, mi sono confrontato molte volte anche con Carlo, ve lo può raccontare le mie telefonate all'inizio del nostro rapporto anni fa, dove dicevo, ma Carlo non può non esserci qualcosa? Allora lui mi dava qualche gancio, qualche lettura nuova, no? E da lì poi prendi il libro giusto, per esempio Gaston Bachelard, che è uno eccezionale, ragazzi, questo qui se vi prendete i suoi testi, ha scritto la psicanalisi delle acque, la psicanalisi del fuoco, dell'acqua, capite? Cioè, qui stiamo parlando di qualcosa che, qual è la dimensione dell'anima, del fuoco, dell'acqua e dello spirito, delle nubole, no? E questo significa essere nella psicologia esoterica, questo significa abbandonare ogni resistenza, significa andare, lanciare il cuore oltre l'ostacolo, come recitano i sufi, no? Delle storie arabe del Mille e una notte. Per cui, quando noi siamo disponibili, umilmente, a mettere giù la veste della nostra, un po', permettetemi il termine, saccenza, del nostro titolo, dei nostri titoloni accademici e altro, per dire, probabilmente però, quello che io so e che posso sapere, è un granello di senapa, un granello proprio di polvere della sabbia, della conoscenza che c'è, è molta della conoscenza, è stata tramandata oralmente, è una conoscenza che molte volte è percepibile. Come accade a me quando sono in terapia con qualcuno e che dico quella frase, che poi non riesco a ricordarmi, perché è una frase che arriva dalla pancia o dal cuore e la persona rimane scioccata o magari scatta una lacrima. Chi è che mi ha suggerito quella frase? La laurea, il titolo, i cento libri letti, oppure una connessione più profonda che è invisibile e che va a toccare il cuore mio e dell'altro che si mettono in considerazione. Ecco perché io credo e affermo ciecamente che la psicologia può ed è esoterica, cioè è qualcosa che indaga le profondità da tutti i punti di vista. Guardate, questo signore qui si chiama Carl Gustav Jung e ha scritto, questo è un suo manostritto, il grande libro rosso, il Liber Novus, che è una cosa difficilissima, sembra un leggio di quelli da Domenica di Pasqua, no Carlo? Perché se vedi anche come è scritto all'interno, sembra proprio, lui ha utilizzato, bravo, ha voluto utilizzare proprio questi caratteri, vedete, che sembrano la pragmatica sanzione, ok? Quella che c'è a Clini del 1100, e lui secondo me è stato colui che ha saputo, che ha osato avvicinarsi al concetto di invisibile, di esoterico, da un punto di vista scientifico, dove ovviamente qualcosa è stato lasciato, come dire, sospeso, perché non puoi spiegare un fenomeno psichico, tu puoi chiedere alla persona come si sente, tu puoi pensare che vedere immagini di gente che sta male o viene maltrattata può farti stare a disagio, ma quello che meccanicamente funziona, sì, ok, possiamo spiegare il concetto di amigdala, possiamo andare a vedere il ciclo dei neuroni nel cervello che passano attraverso l'ipotalamo e da cui c'è la scarica che va nel corpo e ci fa sentire quell'emozione, ma tutto questo è così talmente perfetto che sembra quasi impossibile poterlo spiegare, capito? Ecco, ho parlato un sacco adesso. No, no, ma tra l'altro è importante quello che dici perché in antico psiche, la psiche era l'anima. Quest'anima è stata un po' persa per strada da quello che poi è oggi la psicologia accademica. Questo lo denuncia per esempio un personaggio magistrale come Mauro Vannini nel suo libro La perdita dell'anima in cui analizza la storia della psicologia, la storia dello studio dell'essere umano come purtroppo la narrazione di una di uno smarrimento dell'anima a favore di un approccio alla mente, al cervello che è quello che oggi si usa nelle università laddove se parli di anima o di coscienza ti guardano e tu me lo confermerai ti guardano con sospetto. Tuttavia abbiamo avuto poi invece degli slanci strepitosi perché anche dopo Jung abbiamo avuto esoteristi del calibro di Assagioli del calibro di Wilber Ken Wilber che hanno hanno raccolto il testimone e in effetti il loro approccio i loro libri i loro studi sono squisitamente libri di esoterismo ad approccio esoterico quindi per fortuna ci sono delle delle avanguardie effettivamente come le scientifiche certo che osano anche laddove purtroppo invece l'università non osa cristallizzandosi in una arroccandosi in una percezione della psiche molto mente e senza anima in effetti guarda Carlo mi hai dato questo è possibile sviluppare soprattutto in Italia anche in cui abbiamo costantemente l'ombra grigia della religione poter creare un'avanguardia una ricerca che possa anche toccare l'ambiente universitario e riportare l'anima riportare la psiche alla psiche perché poi è questo il tentativo questa la volontà non tanto di sviluppare l'anima ma di recuperarla perché la psicologia come tu hai ben sottolineato è esoterica non può che essere esoterica e anzi smarrendo il proprio equipaggiamento esoterico è zoppa è carente non si possono capire delle cose se si esclude la conoscenza esoterica dell'essere umano con le forme pensiero con tutto quello che è l'aspetto dell'ombra l'aspetto dell'inconscio del subconscio ma anche delle dimensioni cosmiche laddove Jung infatti poi tracciava questa idea di anima cosmica parlava dell'inconscio collettivo parlava di qualcosa che andava anche oltre il soggetto riconnettendolo ad una ad un'appartenenza complessa multidimensionale senza questo la psicologia non può venire a capo delle effettivamente delle questioni delle problematiche anche cliniche che affronta e questo io lo so perché anche Massimo Formica il nostro amico neurologo mi conferma che o hai un approccio esoterico quindi complesso quindi olistico al soggetto o altrimenti mancano delle chiavi se mancano delle chiavi non si può poi effettivamente risolvere anche eventualmente dei problemi io credo che Carlo non sia una battaglia un po' come faceva Don Quixote con i mulini a vento qual è il risultato di combattere con un mulino a vento qual è il risultato di combattere contro il vento che fischia è un koan è come un applauso con una mano sola sembra un qualcosa di lasciato al vuoto di inconcepibile ed effettivamente quando entriamo nel mondo dell'invisibile del non visibile del non dimostrabile scientificamente perdiamo di fatto la scientificità stessa tuttavia io credo che nel momento in cui saremmo in grado attraverso noi psicologi attraverso quelle che sono le arti e ci sono moltissime avanguardie di art therapy per esempio in campo anche psicodinamico le avanguardie di sistemica ad esempio mio caro ecco una cosa che non ti avevo mai detto io feci la scuola di Bertellinger in Germania per finire a a Bruxelles a prendere il diploma con tutti i loro i loro capi ho conosciuto Bertellinger di persona abbiamo fatto tantissimi lavori insieme ed è stato per me un modo di vedere la fenomenologia di proprio di contrasto a quella che è la sistemica classica della psicologia che mi ha arricchito tantissimo perché mi ha ecco ricordiamolo ricordiamo Bertellinger è quello delle costellazioni familiari sì sì non solo sai non solo ricordi perché è famoso per quello poi adesso magari ci dici qualcosa in più sì beh effettivamente lui era intanto era un protestante ok cioè che poi ha avuto una storia molto particolare perché era da protestante è diventato poi un sacerdote vero e proprio per dopo essere quasi scomunicato tra virgolette nel senso che non apparteneva più all'ordine religioso e come medico anche lì è stato molto bistrattato perché lui portava questa modalità di lavoro senza la parola in un ambito che viene definito come ci direbbe Husserl fenomenologico ok anzi no fenomenologico fenomenico cioè ciò che fa in nome non si mostra e ciò che si mostra è la vera realtà effettivamente Bert ha decodificato con il campo morfico antropomorfico e cercato di spiegare scientificamente ma per lo più è stato è stato bistrattato o deriso sebbene le sue abriazioni o catarsi scusate magari parlo tecnico però cioè i suoi protocolli di liberazione emozionale siano stati e io li ho riscontrati efficacissimi e potentissimi e quando si lavorava con i suoi suddetti erano sempre psichiatri o psicoterapeuti molto preparati non era l'ultima persona che aveva finito i corsi della new age aveva preso il diploma di naturopata e andava a fare le costellazioni perché purtroppo poi è successa una cosa che questo percorso era aperto a tutti se tu facevi un weekend a Milano quando i tedeschi venivano giù poi andavi a casa e nel paese aprivi alle costellazioni familiari anche i sacerdoti li ho visti fare costellazioni familiari e via chi più ne ha più ne metta facciamo di tutto di più e via per cui sai quando un bene così grande non è stato certificato e tutelato e motivo per cui poi ci ha portati tutti a Bruxelles per certificarci ok però non è bastato nel frattempo il fenomeno si era già espanso e tutti avevano fatto costellazioni yoga yoga reiki karma fusioni hai capito che ibridano il concetto principale che secondo me io ne parlai anche con Bert e lui riconosceva questo problema siamo stati insieme proprio nello stesso hotel anche a Bressanone nel 2012 era verso gli ultimi anni lui è molto anziano ma aveva più andava avanti e più era sensibile più vedeva direttamente le cose che accadevano ecco probabilmente probabilmente quando anche si si fa successo con uno strumento uno strumento nuovo relativamente nuovo come quello delle costellazioni e ci si muove anche verso un pubblico non accademico può succedere che questo clamoroso successo poi purtroppo lasci spazio a delle derive di improvvisazione di pressapochismo per cui uno pensa che viste o fatte due o tre costellazioni ha capito come funziona il giochino e si mette a farle magari con un titolo di counselor o di naturopata o neanche certamente in alcuni casi allora secondo me c'è la possibilità di cogliere il senso di tutto questo e attraverso se non un bagaglio accademico psicologico attraverso una sensibilità esoterica di un certo calibro allora lì si può anche dotarsi di uno strumento sofisticato come quello delle costellazioni familiari senza banalizzarlo senza rischiare anche di fare dei pasticci senza improvvisazioni ma con il giusto approccio però purtroppo non tutti hanno né da una parte un bagaglio psicologico né un bagaglio esoterico e di ricerca interiore di un certo livello e quindi ecco che poi la new age si impadronisce dell'ultima moda e vediamo persone che improvvisano delle costellazioni abborracciando scimmiottando creando magari poi anche certi certi problemi magari tentando di risolverli male poi li peggiora o crea dei problemi che poi non sa gestire quindi questo io ho visto in entrambi i casi ho visto sia Fior Fior di anzi tutti e tre i casi ho visto Fior Fior di psicologi dotarsi di questo strumento riconoscerlo e utilizzarlo alla luce della loro esperienza in quanto psicologi o psicoterapeuti e ho visto persone con una importante storia spirituale una storia di risveglio una storia anche di sensibilità esoterica che hanno saputo effettivamente lo fanno per esempio la nostra Rita Minelli lo fa lo fa con grande efficacia grande sensibilità grande acume lì c'è anche forse secondo me una buona dose di talento naturale bravissimo e poi c'è e poi c'è e poi c'è invece chi dall'oggi al domani si improvvisa costellatore e ne combina ne combina di tutti colori guarda permettimi di dire una cosa questo accade sì perché perché sì noi sembra che stiamo portando acqua al nostro mulino il terapeuta lo psicologo il colui che ha fatto un cammino esoterico spirituale ma ragazzi la verità è questa se tu non ti sei messo in discussione se tu non ti sei tolto le zavorbe se tu non puoi rinunciare a una cosa se tu non puoi dire io quello che desidero è tutto ciò che già possiedo allora tu sarai vittima di un ego che da una parte o dall'altra tenterà di sviscerare fuori e in una dimensione come quella costellativa ok che è proprio un gruppo un gruppo forte che si mette in condivisione e passano energie fortissime è chiaro che quell'ego lì farà dei danni e farà dei danni anche laddove non parla o tu non lo sai perché comunque lui ha un'anima al di là di quello che possiamo vedere che va a toccare a incidere a creare emozioni a drapire porte dietro le quali non sappiamo quali mostri si nascondono un po' come quando si fa in un gioco di ruolo processi di transfer contro transfer emotivo psicologico ma anche energetico anche sul piano sottile per cui se non hai fatto un lavoro su te stesso e sei quel centro magneto sei vittima di questi voladores di queste energie entra di tutto cioè le costellazioni mi confermerai hanno un non so che di rituale cioè è un rituale che lo è assolutamente ok molto interessante questo senti e adesso giusto per abbiamo detto facciamo un'introduzione poi entreremo nel merito di alcuni temi che elencheremo anche eventualmente in un ciclo di più interviste sì qual è il tuo qual è la tua intuizione in tutto questo e tu mi hai detto voglio portare nel pionierismo la psicologia esoterica sì perché mi rilancio l'idea forza la tua scoperta mettiamola così l'idea folle l'idea folle la mia mela è questa ed è ed è credo la via medietas attraverso cui poi possiamo immaginare un riscatto della psicologia esoterica come tale di fronte anche alla scienza cioè fare quello che tutti chiedono portami dei fatti e diventerai un eroe ok portami fatti pratici no come quando nelle aziende ti dicono ma io sono bravo a fare i siti web eh portami dei fatti che sito gestisci il panificio ok arrivederci o la ferrari ah beh parliamone ok allora la mia idea forte la mia intuizione è questa io ho omesso di dirvi che dal 2001 mi diplomai prima come istruttore yoga prima che come filosofo a Padova e e ho sempre portato con me questa cosa dello yoga no per cui la pratica quotidiana e tutte le sue dimensioni di yoga partito dalla yengar yoga passato a lata e ho cercato di fondere gli stili mettendole insieme la parte di respirazione la parte pratica la parte corporea la parte di immobilità perché i movimenti non movibili sono altrettanto di gravità e difficoltà tanto quanto un asana come può essere un shalamba salvangasana per dirvi ok e accade che se noi attraverso il corpo arriviamo a una dimensione di botta e risposta ok di quello che è il nostro vissuto interiore noi possiamo avere una terapia noi possiamo avere un approccio di benessere o di guarigione anche in ambito clinico che è immediato e perché questo ragazzi perché accade questo che se tu domani prendi l'aereo e vai in Polinesia francese e vedi un tramonto che c'è in Polinesia seduto sull'atollo tu non potrai mai dimenticarlo perché è di una bellezza estenuante come capita a me quando qua qui io abito vicino a Treviso sui colli isolani e vado al Piave e mi innamoro del Piave e sto lì un'ora a guardarmi il Piave me lo sono persino rifatto a casa un giorno vi mostrerò cosa ho combinato ho creato un mini mondo del Piave dentro la mia casa che la attraversa proprio e perché questo perché quando io faccio un'esperienza che mi tocca il cuore io ce l'ho per sempre come è indelebile è come il primo bacio allora questa come l'ho fatta questa esperienza l'ho fatta con il pensiero immaginandola o l'ho fatta con il corpo vivendola in primis ok l'ho fatta proprio così per cui se io ho un'ansia ho una paura e invece di lavorare sulla parte verbale la metto in scena con i movimenti con dei protocolli e qui mi richiamo anche molto all'idea all'intuizione che avete avuto dove io mi sono subito codato tu e il dottor Formica con i movimenti archetipici mi pare che si chiamino esercizi trascendentali bravo grazie gli esercizi trascendentali il libro ce l'ho qui vicino tra l'altro perché li tengo io fondo molte cose nel mio divenire perché sono estremamente curioso nella vita allora voi immaginate di andare da una persona e dire io ho paura del buio allora raccontami quando da bambino lasciamo stare non mi interessa cosa come tu hai paura del buio bene cominciamo a rappresentare il buio qui nella scena come fossimo in un teatro come faceva Moreno il grandissimo che ha inventato lo psicodramma che poi è una fusione che Bertha ha ripreso perché proprio la funzione dell'attore che vive le veci di un altro quasi come lo sciamano che si impersonifica e fa il combattimento per salvare l'anima di colui che è morente e lì per terra dentro la barella è stato ferito è una battaglia di kurushetra virtuale nel nulla non nell'etre ma che in realtà però si muove attraverso il corpo fa gesti con il corpo e la simulazione attraverso il corpo di queste dimensioni a mio avviso per la pazzia che io voglio perseguire può portarci davvero a una nuova dimensione di approccio e di vivere anche uno stato di trasformazione di cambiamento interiore che sia istantaneo e che sia soprattutto duraturo perché anche Freud attraverso l'ipnosi aveva scoperto che con Charcot venivano le persone si liberavano della schizofrenia ma si liberavano una settimana due settimane poi le donne tornavano alle loro nevrosi non solo le donne anche gli uomini comunque i pazienti lui ne ha indagate tantissime soprattutto donne tornavano alla propria nevrosi allora la differenza dove la facciamo la facciamo non sul fatto che siamo in grado di essere davanti a una persona che attraverso il suo percorso spirituale la sua lucidità la sua apertura di cuore le sue competenze professionali sia in grado di farci piangere ma che quel pianto fra una settimana non torni perché quel dolore lì ha trovato pace ecco e il corpo il corpo tutto questo mi fa venire in mente l'Owen l'Owen certo bioenergetico di Lowe che so io Iengar Aurobindo Iengar Aurobindo certo persino Osho se vogliamo sì il corpo partire dal corpo partire dal corpo per una relazione cioè indagando non solo la relazione psicosomatica ma anche somatopsichica e questo è molto interessante tra l'altro anche nell'ambito dell'ipnosi no c'è già dagli anni 70 anni 80 tutto un filone di tecniche di induzione ipnotica attraverso il toccamento più che attraverso la suggestione verbale si chiamano induzioni digitali proprio effettivamente induzioni digitali poi mi ricordo ai tempi nel in Piemonte c'era a Torino c'era c'era bene meglio penso no? prima che andassi a Bari era bene meglio sì io con Obi e Bimodo tra l'altro di fare anche delle cose con lui molto interessanti proprio su questo approccio del corpo visto come centralina agendo sulla quale si sbloccano poi tutta una serie di energie catarsi ah c'era anche il dottor Pare scusa io ho studiato quel dottor Pare in Francia addirittura perché feci il mio primo master di ipnosi con lui aspetta a Torino abbiamo anche Regaldo il dottor Regaldo invece che è il primario della ginecologia dell'ospedale in Torino anche lui sono tutti approcci molto diversi è bellissima questa idea del corpo che d'altronde diventa anche archetipo in movimento ecco gli esercizi trascendentali con formica ecco quindi le danze sacre ecco allora anche la gestualità i gesti di potere nell'ambito della ritualità magica e sciamanica è bellissima questa questa vena d'oro che tu stai esplorando e senti dimmi un po' ma tu hai messo a punto stai mettendo a punto in base alla tua ricerca delle metodiche degli sviluppi particolari sei già lì o ci sei quasi o hai già pronto qualcosa magari anche da farci vivere in qualche occasione sì sì io sperimento da anni diciamo che la maturazione diciamo questa è un po' una primavera per me perché sto vedendo dei risultati concreti e a volte quello che mi capita lo dico sotto voce perché magari poi sai c'è sempre scaramantici un po' anche se non esiste sta cosa ma lo diciamo un po' come un partito preso a volte accade che progetti un percorso no? e fai diciamo io dico sempre sei volte vediamoci sei volte dove ogni volta dobbiamo affrontare una dimensione specifica un po' come si fa nella terapia breve dove si è molto pragmatici oggi parliamo di questo e risolviamo questo un pezzettino alla volta è uno degli schemi che esistono e ti insegnano nelle business school di coaching dove dici se hai un problema enorme non puoi far altro che scomporlo in 100 problemi più piccoli e quelli non ti faranno più paura e ti permetteranno di vedere tanti piccoli risultati che ti motiveranno ad andare in fondo e allora a volte capita che tu parti con una persona in un progetto e poi quella persona sparisce e inizialmente io mi sentivo un po' in colpa perché dicevo ma cosa ho fatto di sbagliato cosa ho fatto di male e allora un amico forte nel marketing mi ha detto ma senti fai un sondaggio fagli un sondaggio domandagli se hai sbagliato se ti sei comportato male se loro sono andati via perché costava troppo o cosa e sapete cosa ho scoperto che la maggior parte di questi non gli interessava a finire il percorso perché per loro era finito era finito molto prima di quello che avevo pensato io e il fastidio aveva lasciato posto a dell'altro non c'era più necessità di indagarlo perché si era fatta pace e allora anche Bert mi ha insegnato che quando siamo in pace quando i morti sono in pace quando noi siamo in pace con i morti c'è quiete c'è quiete nell'animo l'animo allora si entusiasma per la bellezza ma non è più inquieto e deve scappare via da qualcosa che lo terrorizza molto bello molto bello guarda io voglio sicuramente avere con te altri momenti e magari creiamo proprio un ciclo di approfondimento oppure durante quelli che saranno i convegni organizzati sotto gli auspici del pionierismo magico cosa alla quale dobbiamo ancora lavorare ma è in programma dare spazio a questa tua esperienza a questa tua intuizione e anche viverla insieme ok bene allora io direi che per il momento abbiamo che ho presentato abbiamo introdotto questo argomento così affascinante che a me poi tocca nel profondo perché poi alla fine insomma io posso addirittura in modo audace dire che l'esoterista colui che è impegnato in un serio lavoro di ricerca interiore esplorazione del profondo e del superno entri nel merito della psichologia della psicologia inevitabilmente quindi la psicologia è esoterica e l'esoterismo è psicologico però di quello psicologico così come lo intendiamo noi con questa ampiezza e profondità bene se vuoi aggiungere qualcosa andiamo in chiusura dico solo che è peccato che in ambito accademico si releghi questa dimensione di lavoro o di conoscenza solo limitandola ecco a me quello che piace dell'idea di psicologia esoterica che sto portando avanti è che gli orizzonti siano tanto ampi e che se possa esserci una forma d'arte che può dare beneficio che può curare anche noi dobbiamo utilizzarla se c'è una musica se c'è uno strumento musicale se c'è un ballo un rituale se c'è un silenzio un cibo se c'è una relazione se c'è un'esagerazione se c'è qualsiasi cosa che la persona con cui la persona che abbiamo davanti entra in vibrazione quello potrà essere il nostro strumento ecco io vedo che se alzo la telecamera lì sopra ho una collezione sia di giochi di ruolo ma anche di giochi di board game perché non c'è niente che non ho sfruttato in questo senso per cui dalle carte di Dixit ai tarocchi al Jenga ai legnetti ai Lego alle piste delle biglie alla Sandplay che ci portò sempre a Jung il gioco della sabbia attraverso l'utilizzo del disegno come fanno i giapponesi con il loro zen alla potatura di un bonsai ragazzi abbiamo fatto un lavoro con una ragazza abbiamo comprato le due piantine e abbiamo fatto solo lavori attraverso la potatura del bonsai e man mano che il bonsai cresceva e si potava ha detto questi rami non li ha mai tagliati per un anno e poi ha preso coraggio e ha detto adesso è arrivato il momento di lasciare andare queste cose e ha visto se stessa nel bonsai che cresceva e veniva potato e che ha voluto tanta cura per poter essere indipendente prima di non aver più bisogno di essere portato dentro fuori troppa acqua poca acqua per resistere alle intemperie anche qui siamo in pieno pensiero magico siamo in pieno pionierismo magico allora grazie a Pierantonio Polloni che sicuramente avremo poi in modo di conoscere anche dal vivo di vederci alla prima occasione durante gli incontri del pionierismo durante quelli che saranno i convegni futuri e anche durante altri momenti come questi e quindi per il momento ti ringrazio Pier per questa presentazione è stato un piacere alla prossima alla prossima senza altro ok certo Carlo alla prossima buon weekend ciao grazie grazie a tutti